Giocatore si nasconde dietro il palo e beffa il portiere prima che questi rinvii il pallone. È davvero incredibile quanto accaduto in una partita della seconda divisione inglese. Il giocatore Danny Rose, militante nello Stevenage, si è nascosto dietro un palo della porta mentre il portiere si accingeva ad effettuare il rinvio. Quando l'estremo difensore ha messo la palla a terra, l'attaccante è sbucato fuori all'improvviso, gli ha rubato palla e l'ha insaccata in rete mandando in delirio i suoi tifosi. Il gol è risultato decisivo per la vittoria della sua squadra. Supportate il nostro lavoro con un mi piace e l'iscrizione al canale. Grazie